Amici di Android Blog, è Motorola MotoE che sta girando questo video andiamo subito a tentare un controluce, intanto abbiamo fatto anche un movimento veloce per vedere l'adattamento alle luci di questo Motorola come di consueto andiamo a camminare per vedere la stabilità del video camera che è a fuoco fisso, quindi io mi avvicino comunque al vaso di fiori per vedere quanto è efficace, tentiamo uno zoom, zoom digitale fino a 4x torniamo indietro, movimento veloce verso destra e verso sinistra per questo video girato alla risoluzione massima di 480p dalla camera da 5 megapixel di Motorola MotoE